Sanremo è cultura, spettacolo ma soprattutto storia della musica e con noi Fabiola Sciarabassi, moglie di Pino Daniele. Buonasera, buonasera Vina, ben trovata. Il festival è un grandissimo contenitore, tu sei una cultrice dell'arte perché nel tuo quotidiano la segui così come sei amica di tanti artisti. Una battuta su questa Kermess? Guarda, il rammarico è che purtroppo Sanremo accada solo una volta l'anno perché è la culla dell'arte, della musica, muove talmente tante energie positive che ne avremo bisogno continuativamente. Sanremo per tutti gli artisti ha rappresentato una passerella davvero dove poter esprimere sensazioni, musica, arte. E devo dire mai come quest'anno con un plauso al direttore artistico da Medeus, c'è uno spazio incredibile a proprio la generazione Z, da 2.0. La maggior parte degli artisti, adesso non ricordo in che percentuale, sono nati dopo il 97. Questo è un cambio generazionale importantissimo e la riprova che la musica è sempre davvero fonte di vita per chi la fa e per chi ne fruisce come noi. Pino ha rivoluzionato il mondo della musica, noi siamo napoletani e per noi lui è la pietra miliare per eccellenza. Se oggi salisse sul palco, cosa suonerebbe a tuo avviso, di cosa tratterebbe? Cosa canterebbe del suo repertorio? Sai, lui ha sempre avuto un rapporto reverenziale con Sanremo perché aveva talmente tanto rispetto della musica che non la vedeva come competizione. Forse era un po' questo timore reverenziale un grande rispetto. Canterebbe, dipende, se volesse fare l'ennesimo inno d'amore a quello che è la sua vita, Napolet, se le chiedessero di fare chiaramente una cosa del genere. Altrimenti, cosa che è già accaduta, sicuramente si avvicinerebbe a dei generi musicali con cui lui si è sempre raffrontato, delle contaminazioni perché credeva molto in quello che erano la fusion e delle varie espressioni musicali. Quindi sicuramente farebbe una cosa del genere. 28 artisti, la tua canzone del cuore? Posso spoilerare, la mia canzone del cuore perché è un pezzo di cuore, non parliamo degli affetti, devo dire che c'è una qualità artistica incredibile. Mi è piaciuta molto Madame, Comacose, mi è piaciuto molto Leo Gasman, Elodie. I pezzi di cuore sono Giorgia e Marco Mengoni, quindi forse è, devo dire, un'opinione comune, però non diciamo nulla in bocca al lupo. Grazie a te. Grazie. Grazie.